Acerbi e Juan Jesus, quando è tutto successo, sembra quasi... Ecco, ecco, questa è la bacio appena avvenuto l'episodio, quindi c'è già un chiarimento dopo quello che è successo sul terreno di gioco. E tutti e due cercano, in qualche modo, di dire, è un episodio di gioco, insomma, posso essere preso da un po' di tensione, però non è la mia intenzione, certamente, per ferire quel tipo di parola. Racconti cosa è successo? No, quello che succede in campo rimane in campo. Lui è che si scusa, ma siamo andati avanti e la partita, quando l'abito fisco, finisce lì, tutto a posto. Quindi, a te piacerebbe incontrarli? Ecco, sono... dei ne*****ghi. Negro con il numero 15. Attenzione a negro. Scusate, attenzione a... Greco, scusate. Che figura di merda.